bella frate sono appena uscito diciamo ubeies si chiama salutini giornate stupende domenica special domenica calda domenica perfetta per viaggiare ah sto utilizzando ubeies frate non so ancora com'è sembra meglio di google maps perché mi segnala anche la velocità vediamo che succede vabbè direzione direzione sud mi sposta dopo una piccola sosta così confusionale dopo che l'antenna un po andava un po dove 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 voleva sto percorrendo la c31 la c31 direzione sud farò delle tappe prima di arrivare al sud l'idea comunque è arrivare il prima possibile allontanarmi dal freddo ho fatto il biglietto della nave il 4 dicembre parto per le canarie e nel frattempo mi dirigo verso il sud e rimango al sud tarifa cadiz lo vediamo comunque adesso mi trovo a segur di falaf no falafel calafel talafel ufficialmente il viaggio è adesso diciamo il viaggio inizia oggi oggi ufficiale verso l'ignoto verso posti nuovi mai visti quindi singa non rompiti metti di là non rompere metti di là brutta calafel calafel come si pronuncerà calafel o calafel non penso è calafel 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 sempre dritto devo andare c31 non... ma non è andata non è davvero è davvero Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, un attimo. Un attimo. Va a rompere. Mo' fiamini, mo' fiamini. Aspetta, è tosta, aspettini. Sono le 12.25, fratello, mi trovo, come hai visto, in quest'area di sosta... Aere! Non so se ci arriverò, pensavo mi conviene continuare e voglio allontanarmi, voglio arrivare il più giù possibile, ha senso, perché l'aria, nonostante c'è il sole, conosce fare l'aria fredda. E quindi vado per la seconda tappa che ho scelto delle tappe, dei posti dove fermarmi. As a young girl, the fields were mine, we played hard and sick for hours, raised our shadows among the pines, so offshore, playful and free. 40.000, guardate, 40.000, Terra Nova, Dragon Ball ha appena fatto 40.000, che figo vedere quello 40.000, guarda di nuovo. Fichissimo, eh? Vuol dire che ho percorso 15.000 km in un anno. Beh, non è tanto, dai. 40.000 e 40.000 km in un anno, è tanto, dai. 40.000 e 44.000, mi faccio una pausina qua. 40.000, ma vedi, non solo in Italia fanno questo. Fino di bottiglia di plastica e sozzeria varia. Questa è un'area di sosta, ma non ufficiale. Non c'è il secchio, capito? Non c'è il secchio. Quindi diciamo, che me, frega me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A me conviene quando è così, però non conoscendo la strada ho seguito le indicazioni. Ce la sto fatta che sto a 80 gradi, non deve superare gli 80. E la prossima uscita è Villanova dal Colea. Beh, sempre il veicolo più lento, sempre che sorpassano tutti, in assoluto tutti proprio. E anche i camper, quelli con le lulotte, dai che ce l'ho fatta, dai manca poco. Ma non è male, dai. Scenario stupendo, bello, bello, bello. E che direi? Eh, la strada è bella, dai, entrare col pezzettino là che mi ha spaventato. E pianura fino adesso, eh. Anche se già vedo lì una... Speriamo che no, speriamo che no, speriamo che questa strada va diciamo in mezzo alle montagne, ma non sopra le montagne. Perché odio, le odio le montagne, con Dragon Ball è una sofferenza. La sofferenza, perché non ce la fa, l'acqua si striscalda, mi vengono le paranoie. Quello è. Ok, mi mancano 118 chilometri. Intorno a me sono nature, nature, strade, strade, strade. In 1,5 chilometri, gira all'izchierda. Singano Rompini. Osorne, osorne. Sono le quattro e mezza, sto a 40 chilometri da Valencia. Non mi fermo però a Valencia. No, non mi fermo. Mi fermo dopo Valencia, a 30 chilometri dopo Valencia, 25, così. E se vediamo domani, frate? No, non mi fermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.